Sabato 12 agosto. La notizia è del TG ora. È scattata questa mattina alle 5 l'operazione denominata Colletti Bianchi che vede impiegati 400 militari della Guardia di Finanza in esecuzione di 34 misure cautelari personali delle quali 3 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 19 misure interdittive della libertà personale oltre a 111 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di 83 in 5 regioni italiane Toscana, Veneto, Lombardia, Campania e Marche ad essere coinvolti professionisti, imprenditori, cittadini cinesi e italiani la maggior parte dei quali residenti nella provincia di Prato i provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Prato su richiesta della Procura prevedono la contestazione dei reati di associazione a delinquere in unzione in errore dell'ufficio immigrazione farsi ideologica nel rilascio di rinnovi di permessi di soggiorno e di immigrazione clandestina scontri tra antagonisti e carabinieri ieri sera ad Escolano nel Napoletano un 31enne è stato arrestato per resistenza e altre 4 persone sono state denunciate sequestrate mazze chiodate, bastoni, coltelli, ginocchiere, droga, materiale propagandistico insieme ad altri attivisti del centro arachico vesuviano di Ercolano il 31enne Vittorio Sacchi di Napoli studente già noto alle forze dell'ordine si era rifugiato all'interno del circolo sin dalla tarda mattinata dopo uno scontro avuto con alcuni appartenenti al movimento Casa Pound poi per sottrarsi all'identificazione sono usciti dallo stabile di corsa travolgendo anche un militare che è rimasto ferito in quel tangente lo studente è stato bloccato dai carabinieri della compagnia editore del greco che lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno fermato 4 ragazze a Bairano Patenora in provincia di Caserta perché ritenuti responsabili di un violento raid avvenuto ieri sera ai danni di alcuni immigrati quasi tutti del Malì in un centro di accoglienza della città i fermati rispondono di lesioni personali e porto d'armi con l'aggravante della discriminazione raziale secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Capua tutto sarebbe nato dal presunto furto di un telefonino che secondo gli italiani sarebbe stato commesso da uno dei migranti forti di questa verità i 4 sono andati nell'appartamento che ospitava gli stranieri armati di spranghe di una pistola con la quale hanno anche sparato due colpi andati a vuoto con lo scopo di terrorizzare gli stranieri il pestaggio è avvenuto avanti per parecchi minuti poi i 4 se ne sono andati lasciando alcuni immigrati sanguinanti uno degli stranieri condotto in ospedale ha avuto 25 giorni di prologno e degli altri se la sono cavata con contusioni e tanta paura e questa mattina la seconda udienza presso la quinta sezione di corte d'assise che vede sul banco degli imputati Raimondo Caputo detto Tito accusato di essere l'orco e l'assassino di fortuna e la sua ex convivente Mariana Fabotti chiamata a rispondere di omessa vigilanza e di non aver impedito gli abusi sessuali commessi da Tito sulle sue tre bambine l'udienza di oggi ha visto sul banco dei testimoni tutti i carabinieri che intervennero sul luogo del delitto per le prime fasi dell'indagine ed anche i militari del RIS che tra luglio e settembre del 2014 effettuarono ben tre accertamenti al fine di individuare il punto esatto l'altezza dalla quale era precipitata nel vuoto la povera bambina intanto sono puntati quattro nuovi testimoni che hanno gettato nuova luce su aspetti non di poco conto nell'intera vicenda per avvenire una tabaccheria si sono barricati nel negozio e preso in ostaggio il titolare ma la polizia è riuscita a convincere i tre malviventi a rinunciare a colpo è successo nel quartiere Vomero di Napoli dove gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura e del locale commissariato hanno arrestato tre giovani pregiudicati dei quartieri spagnoli a dare l'allarme è stato un passante che ha accortoci di quanto stava accadendo ha subito chiamato il 113 i malviventi di cui uno armato appena hanno visto arrivare le forze dell'ordine si sono barricati nel negozio dove c'erano anche due promoter di una nota marca di sigarette prevenendo l'ostaggio il titolare gli agenti sono riusciti a persuadere i malviventi dalla compie della rapina alla fine sono usciti dalla tabaccheria senza aggravare la loro posizione si tratta dei fratelli Mario e Francesco e Giglio di 25 e 23 anni e di Luca Auletta di 19 anni i tre sono stati arrestati con tutti in commissariato era suo fratello così la giovane mamma non esitava ad affidargli la figlioletta mai quella mamma avrebbe immaginato che affidare la sua figlioletta al fratello avrebbe significato condannarla ad un incubo questo perché lo zio non la portava al parco giochio a passeggio benzina un casolare di campagna e qui abusava di lei oppure la costringeva ad assecondare le sue richieste e a filmare dei video con i quali poi la ricattava un incubo durato tre anni per una vicina di Bracigliano in provincia di Salerno fino a quando la storia non è venuta fuori e lo zio materno è stato arrestato prima in carcere poi a domiciliari e baronissi lontano dai luoghi della piccola per l'uomo ieri è giunta anche la sentenza in rito appreviato otto anni di reclusione e con questa notizia è tutto grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecafri News sì grazie per l'uomo